Campo sportivo di Treglio, progetti in fumo, lusinghe e promessi e impegni completamente disattesi, serie infinita di danni che saranno pagati. Lanciano Calcio 1920 che dall'era dei Vincentis a quella recente di Max Pincione ha in carico la gestione dell'unica struttura calcistica del paese con precisi impegni sempre disattesi, cura, manutenzione, ampliamenti, passano gli anni e crescono solo rigogliose erbace in un terreno di gioco in abbandono totale. A Max Pincione e De Vincentis non manca di certo il pollice verde e la squadra di Treglio ormai da due anni è costretta a chiedere ospitalità altrove mentre la vicenda è arrivata al capolinea. Il sindaco Massimiliano Berghella dopo tanta pazienza vuota il sacco. Partiamo da questa affermazione che ho sentito praticamente dal tuo speciale che tra l'altro molto apprezzato perché ha fatto chiarezza, ha fatto davvero informazione. Il Treglio Calcio è da tempo emigrato fuori a causa dell'inagibilità del campo. Il campo è stato concesso ormai quattro anni fa a a Lanciano Calcio. Ci sono stati due anni di lavori che hanno di fatto impedito con una grande attesa e la promessa di un grande progetto sul comune di Treglio in modo particolare della realizzazione di un vero e proprio centro sportivo frentano. In realtà qua di centro sportivo non vediamo nulla. Si è negli ultimi mesi addirittura infittita una giungla all'interno del campo sportivo. Io non pensavo di fare un bioparco all'interno del campo di Treglio. Io mi aspettavo sicuramente un campo in erba naturale come era stato promesso, come era stato iniziato e realizzato dall'allora dei vincenti, che a questo punto quasi me lo fanno rimpiangere. Mi dispiace davvero perché attualmente il Treglio Calcio è dovuto emigrare fuori e due anni che non può, prima per il Covid e poi per l'inagibilità del campo, poter solcare il campo sportivo Massimo Cargarello e per noi ha un valore anche affettivo oltre che sportivo. Adesso la pazienza è finita perché noi tre mesi fa abbiamo mandato una PEC al Lanciano Calcio con l'attuale dirigenza dove li informavamo su tutto, lo stato d'abbandono, l'inagibilità del campo, quelli che erano la presenza di rifiuti sul campo sportivo e intorno al campo sportivo all'interno dell'area concessa. Lì invitavamo ad onorare i pagamenti delle utenze che non erano stati onorati e gli abbiamo dato tutto il tempo per poter conoscere, facendo anche una riunione ad hoc, portandoli a conoscenza e quindi adesso non ci sono più alibi. C'è stato tutto il tempo per poter rispettare la concessione che a questo punto ho dato in mano ad un legale perché non finirà qui la situazione, io farmi prendere in giro ci posso passare sopra però in questo caso davvero il tempo è scaduto, io voglio un progetto ambizioso, noi ci credevamo e ci crediamo nel centro sportivo frentano che c'era stato paventato e questo è il motivo per il quale avevamo concesso per 20 anni a un prezzo irrisorio il nostro campo proprio perché c'era uno sviluppo e una possibilità di sviluppo, questo si è arrestato due anni fa, adesso addirittura c'è una situazione di abbandono inaccettabile e adesso siamo partiti noi come comune, adesso realizzeremo intorno al campo sportivo Massimo Cargarella il primo progetto di riqualificazione urbana di quell'area, in modo particolare stiamo acquisendo un terreno a ridosso del campo come era previsto che doveva fare De Vincentis e il gruppo del Lanciano Calcio 1920. Adesso lo realizziamo noi come comune perché siamo certi che lavoreremo, ci metteremo un po' più tempo ma realizzeremo davvero qualcosa di importante per la nostra comunità e per il nostro territorio.